Ben trovati all'appuntamento con il meteo di Telenuova, queste le previsioni del tempo per domenica 22 settembre, giorno in cui la chiesa celebra San Maurizio. Sole prevalente su buona parte del territorio italiano, salvo una diffusa parziale nuvolosità sulle aree centro-orientali del nord, con anche locali addensamenti sui rilievi ma senza piogge associate e parziale nuvolosità anche sulle aree appenniniche e adreatiche centrali. Da rilevare addensamenti più intensi con locali rovescio-temporali al pomeriggio sul sud della Sicilia, tra Ragusano e Siracusano. Temperature stazionarie e gradevoli tardo-estive sui 23-27 gradi in pianura. Da rilevare anche un aumento della ventilazione da nord sul medio e basso adriatico, ioni al sud, aree appenniniche sul canale di Sicilia con venti moderati o anche forti. Sulla campagna rinforzerà l'anticiclone che garantirà condizioni di tempo più stabile anche grazie all'arrivo di aria più secca proveniente da nord-est. Il cielo sarà poco nuvoloso sereno, salvo qualche addensamento nella prima parte della giornata. Temperature in aumento, venti moderati da nord-est, mare mosso.